Questo è Marco. Abbiamo creato per Marco un libro speciale, apposta per lui. Narra la storia di un bambino che si sveglia e scopre che il suo nome è scomparso. Parte dunque alla sua ricerca in una magica avventura. Incontra un mago, un po' imbranato, che gli dà la prima lettera del proprio nome. Poi il bambino incontra un'aquila, che lo porta sul dorso in un meraviglioso viaggio in volo. Una regina che perde facilmente la pazienza. Un coloratissimo camaleonte. E un orso, che ha un gran bisogno di fare un pisolino. Ciascun personaggio dà a Marco l'iniziale del suo nome. Ed ecco fatto! Marco ha ritrovato il proprio nome. Ma questo libro non è soltanto per Marco. Possiamo realizzare libri per tutti i bambini, maschietti o femminucce, con personaggi diversi che danno lettere diverse per creare qualsiasi nome. E dimostrare che con il coraggio, la curiosità e la gentilezza tutto è possibile. Persino ritrovare un nome smarrito.